Dottor Lello, cos'è l'osteoporosi? L'osteoporosi è una malattia che colpisce tutto lo scheletro ed è caratterizzata dalla riduzione della massa dell'osso e fondamentalmente della resistenza dell'osso, cosa che rende lo scheletro più facile a fratturarsi anche per traumi che normalmente non comporterebbero una frattura. Quali sono le cause di questo fenomeno? La forma più frequente è l'osteoporosi della postmenopausa che si instaura in seguito alla riduzione, alla scomparsa della produzione degli estrogeni da parte dell'ovaio e questo provoca questa riduzione della resistenza dell'osso. Questa è la causa più frequente. Tra i fattori di rischio vi sono la familiarità, quindi chi ha avuto la mamma con l'osteoporosi o con una frattura è più soggetta ad avere l'osteoporosi, il fumo, alcuni trattamenti farmacologici come il cortisone per periodi prolungati o sindromi di malassorbimento tipo il morbo celiaco, l'intolleranza all'attosio o le malattie infiammatorie croniche intestinali. Grazie. Grazie. Grazie.